ciao a tutti sono matteo mazzoli della libreria sapere ubic di senigallia ci trovate in corso 2 giugno oggi per the book advisor vogliamo affrontare un genere particolare ma che sicuramente amate e di cui siete appassionati parliamo della graphic novel del fumetto che dir si voglia con i kill giants oggi andiamo a conoscere barbara thompson barbara è una ragazzina che è una fantasia sfrenata e soprattutto la utilizza per affrontare le sue paure lei immagina di vedere questi giganti pericolosissimi che affollano e assediano la sua casa e con questo grande martello che è un po l'unione di tutte le sue forze di tutte le sue energie li affronta e li combatte rifugiandoci in questo mondo però sembra perdere un pochino il contatto con tutto quello che è fuori da lei soprattutto con un'amicizia che riuscirà per la prima volta a portarla a trascinarla via da questo suo luogo fantastico da questo suo rifugio dalla realtà e farle capire che c'è anche molto di più di una semplice battaglia contro dei spaventosi degli spaventosi giganti per poter vivere grandi avventure i motivi per leggere i kill giants sarebbero tantissimi a partire dai disegni meravigliosi il tratto è splendido avventuroso veramente veramente bellissimo soprattutto è una storia che racconta la forza e la volontà di voler lottare contro le difficoltà di essere di sentirsi anche diverso di sentirsi inadeguato di sentirsi in difficoltà barbara riesce da sola ma soprattutto grazie all'aiuto delle amicizie ad affrontare tutto questo e a sconfiggere i suoi giganti grazie a tutti